Terzo giorno di attività sismica susseguente alla maxiscossa dell'alba del 9 novembre. Un'attività sismica che per il terzo giorno è continuata in maniera costante ma ridotta di intensità rispetto sia mercoledì sia ad un giovedì che aveva registrato due scosse di magnitudo 4.1. Fino al primo pomeriggio di questo venerdì un'altra decina di scosse sempre con epicentro a largo delle coste pesaresi e anconetane ma scosse con magnitudo più ridotta compresa fra 2 e 3. Oggi per il terzo giorno si è riunita la SOI, tavolo di confronto integrato fra prefettura, forze di polizia provinciali, vigili del fuoco, protezione civile e comuni per fare il punto sugli interventi di controllo effettuati, le inagibilità rilevate e le criticità da affrontare. Siamo impegnatissimi in queste attività di verifica soprattutto sui dissesti statici delle civili abitazioni ma anche alcuni edifici di pubblica utilità e abbiamo avuto 255 interventi già operati dal nostro personale e ne abbiamo in coda quasi 200. Quindi c'è un'attività molto intensa. Le inagibilità che abbiamo dovuto necessariamente operare sono comunque relativamente basse, cioè circa il 4% degli interventi di verifica fatti. Quindi parliamo di 10 inagibilità, alcune sulla maggior parte su civili abitazioni, quindi appartamenti e poi ci sono anche delle strutture di rilievo pubblico come la chiesa di Candelara, piuttosto che l'ambulatorio del padiglione di Rifano che stamattina abbiamo dovuto comunque fare inagibile, che necessitano comunque degli interventi importanti ma che probabilmente avevano anche già nel pregresso una situazione con qualche vulnerabilità. Il tavolo di confronto della SOI ora si aggiornerà al prossimo martedì, tavolo che per il Comune di Pesero è rappresentato dall'assessore all'operatività Enzo Belloni. L'importante è che abbiamo riaperto le scuole e le palestre, quindi i primi edifici che sono stati controllati dai nostri tecnici non hanno registrato particolari criticità dal punto di vista dell'agibilità. Ora si stanno facendo controlli anche più approfonditi rispetto agli altri edifici di proprietà del Comune, con occhio particolare agli edifici storici, che sono quelli che in qualche modo dalle prime analisi che abbiamo potrebbero aver registrato danni e quando si devono mettere le mani sui edifici storici importanti, è un attimo che le risorse necessarie siano anche risorse importanti. Ci siamo presi altri giorni di tempo per avere una valutazione tecnica più vicina al vero rispetto a quelli che potrebbero essere i costi da sostenere, i danni che abbiamo registrato. Contiamo che fra martedì e mercoledì, come ci siamo dati come tempo, anche nella riunione di questa mattina alla SOI, di avere un quadro più vicino al vero rispetto a una quantificazione di danni. L'importante a questo punto è mantenere l'agibilità e continuare il percorso di monitoraggio che stiamo facendo costantemente.